eccoci qui buonasera buonasera a tutti i presenti benvenuti al terzo più elevato reparti la due giorni in diretta durante la quale andrò insieme a voi a cercare a scovare le migliorazioni italiane partiremo da quelle italiane sulle quali si stanno lineando degli importanti doji line funzionali già come alcuni di voi sanno per eventuali inversioni e breakout di periodo allora signori buonasera datemi un feedback in chat audio video se mi sentite se mi vedete correttamente perché devo entrare subito nel vivo ci sono tante cose le quali appunto discutere questa sera vedo che qualcuno già se collegato vedo che c'è roberto chiara guido giuseppe marco roberto giuliano matteo marco candida gabrile tanti altri quindi buonasera a tutti ciao ciao giuseppe grazie allora eh vi sto chiedendo se questo è il vostro primo party beh l'ottanta per cento almeno di coloro che sono qui presenti dice che il primo che ho tre parti quindi onorato di avervi qui questa sera complimenti per l'ottima scelta ovviamente anche grazie per la fiducia che ancora una volta in tantissima vita di posto in me e nel mio team allora vi spiego brevemente cosa faremo nella sessione di oggi come già sapete eh rilevatore parti è spalmato su due giorni oggi sì sarà più una giornata da come dire eh detective andremo alla ricerca no? Delle azioni vi farò vedere il mio gioiellino all'opera e se non ce la faremo fare tutto oggi domani inizieremo a pianificare delle operazioni di investimento allora ragazzi vi ho già messo a volte vi chiamano ragazzi a volte signori a volte signore per me siete tutti uguali quindi anche i non più giovani ottimi o pubblico o comunque i miei clienti privati hanno mediamente un'età media superiore ai sessant'anni comunque per me sono tutti ragazzi e ragazze quindi alla fine l'ottanta per tre per cento di voi è per la prima volta al party eh altri insomma una minoranza hanno già partecipato in passato allora eh chiudiamo questo sondaggio poi ovviamente tutti coloro che vedranno i replay anche voi che siete qui in diretta ragazzi vedetevi di nuovo la video registrazione tutti coloro che vedranno comunque i replay possono partecipare in tempo reale a tutti i sondaggi e comunque tutte le cose che facciamo quindi questo è un grande vantaggio di webinar jam allora eh vi faccio un'altra domanda poi entriamo nel vivo ti reputi un investitore trader 3 minuti di ancora non lo so sono qui anche per capire meglio rispondete a questa domanda a tutti perché è molto importante ragazzi vedo che alcuni di voi scrivono in privato allora no non va bene eh mettiamo la chat solo pubblica eh ok così magari perfetto ok quindi rispondete nella chat così vediamo tutti quanti guido siamo partecipati altrimenti perfetto non è un problema come dire arrivato reparti è un evento molto importante come già sapete non lo faccio un mese anzi scorso anno ne ho fatti solo due quest'anno questo è il primo e perché comunque insomma è un evento che necessita una serie di azioni soprattutto è un evento che ovviamente viene fatto anche per dare a tutti coloro che sono interessati a diventare proprietari della licenza del mio girino la possibilità di farlo quindi rimate collegati oggi domani comunque avrete delle promozioni molto importanti ovviamente quando vi invitiamo a degli eventi lo facciamo perché diciamo possiate avere un beneficio globale ciao Marco allora eh vediamo un attimo il sondaggio allora ti reputi un investitore 42 per cento tre dei molti dei 28 per cento ancora non lo so sono per capire meglio perfetto allora piccolo spaccato ragazzi faccio dei disclaimer eh importanti così prendiamo tranquilli dritti con l'operatività allora il mio girino il rilevatore del giro e di chi nasce si applica a tutti i tempi giornaliero mensile trimestrale annuale non c'è semestrale quindi anche chi è qui e si reputa più un trader multiday che usa magari ancora le candele settimanali non è un problema ci sappiate che il rilevatore va bene anche per voi quindi avete fatto bene ad esserci qui tuttavia io lo farò girare applicherò il mio girino solo su time free mensile trimestrale e vi farò vedere anche gli annuali sull'annuale la visual trader ancora non ha predisposto eh l'applicabilità del gioiellino però non mi preoccupate l'ho fatto io per cui lavoro sporco e lo condivido con molto 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 piacere allora continuate a rispondere al sondaggio perché nel frattempo ragazzi vi faccio anche vedere il portafoglio ecco già vedo qualche animaletto qui in alto a destra c'è un drago anonimo un ghiottore anonimo una ligre tra certi animali che mette eh google c'è un narvalo ma non conosco questi animali comunque ognuno di voi non è che un animale è un animaletto associato a a questo link nel senso che ehm avete l'accesso a questo portafoglio che andremo a comporre ovviamente mercato permettendo perché mercato permettendo ragazzi perché io così come voi sono totalmente ignaro di quello che il rilevatore farà eh mostrerà nuovi di quest'oggi cosa voglio dire ovviamente sicuramente c'erano delle cose da eh come dire delle delle operazioni da fare però ogni volta che c'è un rilevatore parti io mi auto impongo di non far girare il gioiellino almeno due tre settimane prima perché non voglio togliermi la sorpresa di scoprire insieme a quelli che sono i titoli che appunto andremo prima ad analizzare poi eventualmente ad inserire in portafoglio quindi signori signore sono le sedici e trentasette staremo insieme grosso modo fino alle diciotto minuto più minuto meno costa oggi anche domani quindi se per voi è tutto ok se non ci sono domande io andrei direttamente alla condivisione della visual trader e iniziamo a far girare il gioiellino quindi datemi un feedback se tutto eh se tutto eh chiaro fin qui quindi la percentuale di coloro che ancora non lo sanno è aumentata al trentasette perciato quindi significa che questa è una buona notizia significa che alla fine eh come dire farsi delle domande è lecito chiaro io sicuramente non parlo a eh dei trader quindi sono contento che nessuno abbia scritto trader altrimenti avremmo sbagliato un qualcosa nella comunicazione è eh eh insomma una piccolissima presentazione nel senso che ho visto che ci sono alcune persone totalmente nuove che per la prima volta che partecipo non solo al party ma in generale io mi occupo di investimenti sono investiture quindi utilizzo analisi grafica e chi nasci ed è su questo che fondo la mia operatività allora perfetto grazie Roberto il feedback di Roberto è più che sufficiente quindi direi che possiamo passare all'azione quindi ragazzi penna carta vi do qualche secondo per attrezzarvi e così iniziamo a prendere in nota allora una cosa importante vedo Marco Montaldo che ha alzato ha richiesto di parlare allora ragazzi la richiesta di parlare questa è una cosa molto importante da qualche parte nella vostra schermata ci sarà un tasto un pulsante richiede di parlare qualcosa di simile se pigiate su è perché volete venire qui a fare due chiacchiere dal vivo con me chiaro quindi magari adesso Marco teniamocela per domani eh teniamocela per domani la possibilità di parlare dal vivo questa è la classica video chat dove abbiamo fatto le scatole quadrate con sta video chat etiquetto l'inclusivo perché è una funzionalità molto molto utile quindi magari i più timidi o chi non ha voglia di metterci la voce la faccia può scrivere in chat chi vuole farsi poi domani vuoi chiacchiere con me dico domani ragazzi perché prima voglio vedere cosa ha da mostrare il gioiellino e nel caso Marco se ci sarà anche domani eh ti darò la precedenza buono andiamo sui grafici quando vado sui grafici ragazzi non ho sotto mano la chat chiaro quindi se dovete scrivere qualcosa riferimento a qualche azione per cortesia siate quanto più sintetici ma ehm esplicativi possibili allora questo è il mio portafoglio ad oggi questo è il mio portafoglio eh di investimenti eh e questo è il mio portafoglio very long turn perché faccio queste due distinzioni perché nel portafoglio very long turn questo qui ci sono solo investimenti su quadri grafici annuali ok mentre il portafoglio di investimenti ha un mix di mensili e trimestrali perché vi faccio vedere questo portafoglio perché ragazzi titoli come ODS più 40 per cento titoli come ehm Zinago Vetro più 19 21 per cento titoli come Finico più 24 per cento ad oggi e tanti altri sono stati inseriti nel mio portafoglio proprio grazie alla presenza di alcuni doji importanti su diversi time frame che hanno come dire identificato delle aree fondamentali oltre alle quali sarebbe scattato il segnale di acquisto perché vi faccio vedere questa cosa questo portafoglio beh perché è molto importante almeno per me farvi capire che ciò che io dico faccio chiaro cioè nel senso non è che vi ho radunato qui 40 30 non so quanti site per parlare delle farfalle no vi ho radunato qui per mettervi al corrente di quella che la mia operatività pregressa di quella che sarà la mia operatività futura ma per farvi notare che quello che io spiego le strategie che applico e soprattutto le analisi che faccio sono realmente poi la base per la mia operatività quindi ripeto complimenti ancora una volta per essere qui e soprattutto prestate molta attenzione ragazzi perché quello che vedrete questa sera e anche domani in diretta potrà potreste iniziarlo a fare voi in autonomia in qualunque momento qualora poi deciderete diventare proprietari in abbonamento della vicenza tempo al tempo per il momento direi che possiamo eh mettere qui un frino quindi dicevo sia su tempri mensili che trimestrali ma anche sull'annuale mi viene in mente ad esempio saras che è entrata da poco in portafoglio perché c'è una doge annuale ma anche ragazzi banco bpm ed unicredit sono stati dei titoli acquistati su delle inversioni annuali inversioni dessunte come grazie all'analisi grafica e chi nasce in doji line quindi l'avete capito le doji che sono delle candele fondamentali alla mia operatività la fanno da padrone oggi ma in generale anche nel mio portafoglio azionario un piccolissimo disclaimer veniamo comunque da un mercato leggermente rialzista quindi io non so realmente quanti titoli eh il rilevatore quest'oggi rileverà rivelerà rilevatore vabbè ci siamo capiti ma sta del fatto che prenderemo per buono quello che esce quindi adesso andiamo direttamente sulla visual trader farò girare i rilevature sull'all share italiano mensile pronti andiamo quindi mettiamoci nella sezione lista esplorazioni and the day visual trader explorer allora mensile avanti all share e facciamolo girare allora adesso quindi appariranno ragazzi apparirà una lista di azioni il cui quadrografico mensile presenta di recente delle doji line quindi io tra un attimo mostrerò i risultati sono un po' emozionato non lo nego e farò una prima scandagliata farò una prima panoramica magari in silenzio vedrò quelli che possono essere dei titoli interessanti da condividere con voi e andremo a commentare e all'occorrenza vi spiegherò anche l'operatività da applicare quindi vediamo ok diciamo non sono pochissimi abbiamo Fiera Milano, Generali, Gabetti, Ares, ok allora iniziamo voi ragazzi per il momento prestate attenzione tanto comunque col ticket l'inclusivo avete repli quindi poi vedete con calma tutto se vi servirà innanzitutto vediamo che comunque il gioiellino che vi ricordo è efficace al 95 per cento nel senso ogni tanto qualche titolo rimane fuori però il 95 per cento i titoli li prende in considerazione non è perfetto ma va bene così per quello che ci serve va più che bene allora vediamo quindi quadrografico mensile adesso facciamo una carellata in silenzio voi iniziate a prendermi nota comunque grazie a tutti grazie a tutti Ovviamente guardate, man mano che scendiamo nella lista, ovviamente l'ultima candela non è più una 12 perfetta, perché comunque qui c'è l'ordine discendente della verosimiglianza, ovvero i titoli che sono più in alto hanno l'ultima candela molto più simile a una 12, chiaro? Ok, ok, ok Diamo una trucchiata Grazie 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 Va bene, le ultime azioni, le ultime 4-5 lasciamo le perdere perché non ci sono l'uso Allora signori, io inizio a prendere un attimo un'uta, poi vi spiego Vi spiego tra un attimo Allora, sicuramente il Fiera Milano lo andrei a scartare perché, come dire, cerchiamo di prediligere titoli che hanno una tendenza e soprattutto titoli che sono abbastanza liquidi Qui è un titolo che scambia poco, quindi lascia ripartere Allora, sicuramente il Fiera Milano lo andrei a scartare Anche qui, tra i finanziari e industriali, ragazzi, discesa chilometrica, anche no Cir, lascia ripartere Troppa confusione, alla fine non c'è molta chiarezza Allora, sicuramente il Fiera Milano lo andrei a scartare L'interessante è che comunque ho trovato un supporto molto molto solido Il discorso è che è un titolo che sta anche congestionando Però, voglio dire, non è che sia proprio Un titolo molto molto gestibile Non lo tengo fra le mie prime scelte Magari poi ci ritorneremo più in avanti Va bene, ragazzi, io una mezzidia me la sono già fatta Ok, però voglio sentire voi adesso Tanto sono sicuro che avete preso carta e penna Avete preso qualche nota Scrivetemi almeno due titoli Che secondo voi vale la pena Tenere d'occhio Non tanto perché poi scaricherò su di voi la responsabilità Ma semplicemente perché Voglio rendere, ragazzi, questi avanti due secondi un po' più interattivi Quindi prendetevi qualche secondo Scrivete in chat Scrivete in chat secondo voi su quali titoli Indipendentemente, ragazzi, se voi siate già a bezzi di doji Già operative, semplicemente Date anche un po' istinto Tanto poi ci sono qua io per un attimo Dirvi cose bene fare, cose bene non fare Allora Marco Banca Generali Sì, doji vuol dire che bisogna essere fuori al momento del titolo Io ce l'ho avuta fino alla settimana scorsa Banca Generali E ho chiuso la posizione Allora Andrea Znam Ricordati Tenaris, Roberto Che vediamo un po' Ragazzi, siete una ventina in diretta Quindi dateci dentro Approfittate di questo pomeriggio che vi siete liberati Vi ringrazio per essere qui Visto che ci sono anche diverse donne Quindi sono molto contento sempre di avere un pubblico femminile Insomma, diciamo 10-15% dei miei studenti storici è composto anche da donne Quindi fatevi sentire anche voi Ulisse Non c'è nessuna Ulisse, Alberto Parlo della lista dei titoli che vi ho fatto vedere poco fa Quindi atteniamoci a quello che dice l'elevatura Allora, quindi Znam Ricordati Tenaris Allora, partiamo da questa base Vi dico perché Allora, io ho escluso Anzi, vi dico quelli che secondo me Può avere un senso Andare ad approfondire dal punto di vista operativo Sicuramente Gabetti Anima Holding E Tenaris Quindi Questa prima tornata Così Di petto Mi ha fatto Cadere l'attenzione Su questi tre titoli Allora, Znam Io andrei subito a discutere Lo vi spiego anche perché Cercherò di fare un po' di didattica Anche se non è questa la sede Per fare appunto Troppa didattica Però ragazzi Ricordate Le doji line sono molto importanti Ricordate Perché non dovessi saperlo Permette per buono Ciò che vi dico Le doji line sono molto importanti Perché dettano il passo Di quello che potrebbe essere L'andamento futuro Il titolo Chiaro? Allora, in questa situazione Su Znam Il fatto che abbiamo Una doji due mesi fa E una doji il mese scorso E soprattutto il fatto che Guardate questi corpi centrali Questi corpi centrali Sono dei livelli di mezzeria importanti Ma se il prezzo Inizia a muoversi Al di sotto Di questo livello centrale Vuol dire che c'è Debolezza Quindi lì dove c'è debolezza Voi dovete stare Totalmente Alla larga Certo Potrei dirvi Occhio ragazzi Magari sopra i 5 euro Znam Darebbe un segnale importante Siamo a 4,63 Lo vedo un po' lontano Quindi Znam Non è un titolo Su qual andare ad operare Adesso Ricordatevi Questa è una cosa importante Questa è una cosa importante Allora Voi dovete sempre Mettervi nell'ottica Che il vostro tempo Ragazzi Il tempo di tutti È molto prezioso Quindi nel momento in cui Voi dedicate Del tempo E dell'energia mentali E fisica A fare un'analisi Fatela Su quei titoli Che Realmente Si meritano Il vostro tempo E le vostre analisi Chiaro? Quindi Io sono qui Per darvi una direzione Poi ovviamente Ognuno di voi È libero Di fare Quello Che crede Sui titoli Che il rilevatore Il gilino Sta Mostrando Quindi Snap È un po' Chiderma Come dice Gubbido Beh Diciamo Molti utility Sono Pesanti Sono pesanti Molto pesanti Quindi Snap Andamento laterale Sì nel senso Che comunque Non Non mi attratta Non attratta L'attenzione Landy Renzo Siamo Molto Molto Borderline Come titolo Ragazzi Io sono qui Anche per cercare Di mettere In condizioni Di guadagnare Soldi Cioè Landy Renzo È una scommessa No Non Enel Giuseppe Vediamo Enel Non rientra A fare mie preferite Perché Insieme Sto andando A escludere I titoli Che voi state Indicando Non perché Io me la tiri Semplicemente Per darvi Delle motivazioni Concreate Allora su Enel Quello che non mi piace Molto Sinceramente È Questo Guarda qui Allora Dividiamo Enel In due grandi macro aree Sopra i 4,50 Sotto i 4,50 Quanto da fin qui Tutto perfetto Faccio un po' di analisi Grafica Ragazzi Non sono analista Tecnico Non mi confondete Comunque le belle Che sono sul web Semplicemente Traccio questa linea Che cancellero Fra due nanosecondi Perché Enel Ha invertito Bruscamente La sua tendenza Degli ultimi dieci anni Esattamente In questo punto Chiaro Esattamente Febbraio Inizio dello scorso anno Quindi Comunque Viviamo Schiacciati Da una pressione Maggiormente Ribassista Ora Qui sì Tutto bene C'è stato un impulso Magari sì Ok C'è una Doji Che si poggia A ridosso Di questa Barriera Però ripeto Non è una mia Primissima scelta Ci metto Un punto interrogativo Comunque Magari ne parliamo Se abbiamo tempo Però il mio obiettivo Qui è darvi Almeno per quella Che è la mia esperienza Una lista Di titoli Operativi Pronti all'uso Che abbiano Delle probabilità Comunque Di profit Di successo Abbastanza elevate Allora Su Enel La vedo Un po' complicata La cosa E Sono contento Che voi Abbiate Partecipato Quindi ringrazio Tutti coloro Che hanno Detto la loro Perché ragazzi E' vero che Le Doji Line Sono molto Semplici Da individuali Ma non è così Facile Operarvi su Se non avete Tutti i crismi Chiaro? Quindi Facciamo una cosa Andiamo sul trimestrale Adesso faccio Esattamente La stessa cosa Seguitemi bene Faccio girare Il gioiellino Sul trimestrale Vediamo insieme Cosa ci mostra Allora Questo elenco Per il momento Lo metto Qui in basso Ok? Quindi questa È La lista Mensile Del gioiellino Ricordatevi Ragazzi Il gioiellino Gira solo Su Visual Trader Chiaro quindi Per chi Insomma In questi due giorni Poi decidesse Di diventare proprietario Per licenza Ricordate Bisogna avere Un abbonamento Visual End of day No real time Almeno end of day Attivo Quindi All share Applica Ho messo Trimestrale Non mi ricordo Vi facciamo End of day VT Explorer 2 G line Trimestrale All share Via Quindi Quanto ci ho messo? 5-6 secondi Vediamo La lista Il bello della diretta Si è un attimo Impallata La Visual Trader Aspettiamo 2 secondi Si è emozionata Anche lì Oh Non accade Mai Quando Deve accadere Trader Di Vi Grazie a tutti.